In città c'è un nuovo spazio aperto agli studenti e alla creatività di giovani artisti. Si chiama ArtLab, si trova nel quartiere di Muraglia in via Guerini 25 e sarà un nuovo luogo polifunzionale aperto 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Sarà uno spazio polivalente che principalmente ospiterà un co-working dedicato ai creativi, quindi a chi fa arte o utilizza comunque la creatività per lavorare. E poi avrà una parte di sala studio dove organizzeremo anche dei corsi legati alla creatività e alle tecniche artistiche ma anche a qualsiasi altro tema intercetteremo nella città e una sala espositiva. Inoltre lo spazio è in espansione, stiamo pensando di utilizzare altri spazi per creare ulteriori servizi come ad esempio una camera oscura, una postazione di serigrafia e una sala posa. Questo ovviamente è un percorso che svilupperemo nel tempo anche con l'aiuto degli artisti che già hanno prenotato i box e verranno a lavorare qui e di tutte le persone che passeranno in questo spazio. Artlab ha al suo interno un aula studio e lavoro comune, oltre a quattro studi riservati e provvisti di scrivania, scaffali e connessione wifi. Artlab è un servizio che offre l'associazione Tavolo Studenti e quindi i nostri servizi saranno riservati ai tesserati, ma la tessera costa solo 5 euro e quindi per utilizzare lo spazio in generale si chiede di fare questa tessera di un piccolo contributo annuale veramente irrisorio. E dopodiché invece per utilizzare i box che sono destinati appunto a chi con la sua arte sta cercando di lavorare c'è un contributo un pochino più alto, mensile, con cui noi copriamo ovviamente le spese delle bollette dello spazio e della connessione a internet che è offerta ovviamente gratuitamente a cui suffruisce dello spazio. Artlab sarà aperto ufficialmente il 13 novembre dopo una due giorni di inaugurazione di sabato 11 e domenica 12 novembre. Abbiamo coinvolto diversi artisti intercettati nel percorso di costruzione dello spazio che esporranno le loro opere, in tutto sono 17, tutti giovani e del territorio qui della provincia di Peser Urbino. Oltre a queste esposizioni ci sarà la proiezione dei lavori di Alma Animatori di Urbino, ci saranno delle attività interne, ad esempio insieme a Sistema Critico organizzeremo uno speech cocktail dedicato all'arte e alla Cancel Culture. All'interno di Artlab saranno organizzati anche corsi legati ad arte e creatività. Da mercoledì 15 novembre inizieranno tre corsi, abbiamo in programma il primo con Guido Brualdi, un artista cantautore e fumettista di Pesero, per creare il tuo fumetto unico e ripetibile. Avremo poi un corso di Punch in Idol con me, che sono Camilla Cesarini in arte Armadilli, di ricamo contemporaneo e avremo un terzo corso di make-up effetti di scena con Laura Maiani che sarà intorno a gennaio-febbraio. Sono corsi completamente gratuiti con materiali forniti da noi e finanziati dal progetto Chimera.